Benvenuti all'appuntamento settimanale con le news della Camera di Commercio. Questa settimana vi parleremo di un appuntamento che si terrà venerdì 25 gennaio alle 18 nella sala polivalente del comune di Porto Ceresio. Dedicata alle opportunità per la ricettività non alberghiera in provincia di Varese. Quindi un appuntamento rivolto a chi ha una seconda casa e vuole magari pensare di metterla a reddito sfruttandola dal punto di vista turistico e sfruttando appunto questo momento favorevole che vede la nostra provincia in crescita rispetto ai flussi turistici complessivi. L'appuntamento è realizzato con l'amministrazione comunale di Porto Ceresio, con Explora, la DMO di Regione Lombardia e del Sistema Camerale Lombardo e vede anche la partecipazione di Varese Convention and Visitors Bureau. Parleremo degli aspetti amministrativi ma anche di tutti gli adempimenti dal punto di vista fiscale che un operatore deve affrontare per poter mettersi sul mercato turistico. Non solo ma anche la valorizzazione della struttura e poi anche la comunicazione, aspetto altrettanto importante che verrà toccato da Explora. Ripeto quindi, l'appuntamento è per venerdì 25 gennaio alle ore 18 a Porto Ceresio. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Camera di Commercio www.va.camcom.it L'iscrizione è ovviamente gratuita.